La prima commissione licenzia il bilancio di previsione. PNRR più centralità a Parlamento e Assemblee Legislative. In mostra la collezione di Palazzo Lascaris. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. La prima commissione consigliare dato il via libera al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. L'intero documento approderà in aula la prossima settimana per la discussione finale. Con l'approvazione a maggioranza di tutti gli articoli e del maxiemendamento presentato dalla Giunta con le modifiche che recepiscono gli accordi con larga parte dei gruppi di opposizione, via libera da parte della prima commissione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Dal capogruppo Liberi Uguali Verdi, contrarietà al provvedimento, ha annunciato voto contrario in aula. Nelle sedute precedenti la prima commissione aveva dato via libera al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 del Consiglio regionale. Un bilancio, come sottolineato dal Presidente dell'Assemblea, che conferma il trend di spesa complessiva degli ultimi anni e gli stanziamenti necessari alle spese di investimento ottenuti con l'utilizzo di avanzi di amministrazione e i risparmi del contenimento delle spese correnti. Una manovra sostanzialmente analoga nell'architettura a quella del triennio 2021-2023 per le macro voci di entrata e spesa. Sulla programmazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Lascaris sono intervenuti il Movimento 4 Ottobre e diversi componenti degli altri gruppi consigliari di minoranza che avevano richiesto un incontro con SCR, Società di Committenza Regionale, per essere messi a conoscenza del crono programma che riguarderà i lavori di ristrutturazione conservativa di Palazzo Lascaris in programma nel corso del 2022. Una volta approvato, il bilancio di previsione troverà articolazione nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale che consiste nella ripartizione in capitoli e articoli assegnati alle direzioni competenti per la corretta gestione del ciclo Entrate e Spese approvati dall'Ufficio di Presidenza. Più centralità a Parlamento e assemblee legislative nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Se con il PNRR si intende indirizzare il nuovo corso economico e sociale del Paese, non è possibile farlo senza che le assemblee elettive svolgano il loro ruolo di indirizzo e controllo. Sia il Parlamento, sia i consigli regionali, siano protagonisti insieme agli esecutivi. Questo è il messaggio forte che è emerso durante il seminario di approfondimento su PNRR e assemblee legislative che si è svolto a Torino, organizzato dalla Camera dei Deputati e dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con il sostegno del Consiglio regionale. Obiettivo approfondire le modalità attraverso le quali le diverse sedi della rappresentanza democratica, Parlamento nazionale e consigli regionali potranno indirizzare e monitorare l'attuazione del PNRR. Il Piemonte ha tantissimi enti di piccole dimensioni per i quali non ci sono le competenze tecniche per gestire questi fondi. È una sfida del Paese, la Corte sarà presente anche per realizzare questa sfida. Il 36% delle risorse disponibili sono destinate a progetti e programmi localizzabili a livello regionale e locale. Per quel che riguarda la missione Inclusione e Coesione, il 93% delle risorse disponibili è destinato prevalentemente agli enti locali, mentre nel caso della missione Salute il 97% delle risorse è destinato alle regioni. 40 anni al servizio dei cittadini. Un convegno ha fatto il punto sull'attività del difensore civico. 572 i fascicoli aperti nel 2021. Si è tenuto a Palazzo Capris, in Via Santa Maria a Torino, il convegno 40 anni di difesa civica. Un istituto, quello del difensore civico, nato a tutela e garanzia del cittadino, che si è ritagliato nel tempo un ruolo sempre maggiore. Il convegno è stato organizzato dal Consiglio regionale e dal difensore civico regionale in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Torino. La difesa civica è stata istituita nel 1981 e la regione Piemonte è stata una delle prime ragioni a istituire il difensore civico. Il difensore civico ritengo che sia una risorsa molto importante per l'intera collettività piemontese in quanto si tratta di un organo di garanzia volto alla tutela della buona amministrazione a cui tutti i cittadini si possono rivolgere senza alcun formalismo e gratuitamente. Sono stati 572 i fascicoli aperti nel corso del 2021 presso il difensore civico piemontese e di questi circa il 60% riguardano l'area dei servizi alla persona e all'interno di questi più di 7 su 10 sono inerenti sanità e ospedali. Interessante tra le varie aree di intervento quella sui procedimenti amministrativi e sulle richieste di accesso documentale e di accesso civico che hanno garantito maggiore trasparenza delle amministrazioni. Il rapporto con la pubblica amministrazione è complicato ma decisamente migliorato rispetto a un tempo. Occorre uno sforzo anche da parte dell'Avvocatura di fungere da mediatori e non da sobbillatori del conflitto. Al difensore civico della regione è dedicato anche il nuovo numero della collana I Tascabili di Palazzo Lascaris. La pubblicazione consultabile e scaricabile sul sito internet del Consiglio regionale illustra in modo semplice e chiaro le peculiarità e gli ambiti di intervento del difensore civico. In mostra la collezione di Palazzo Lascaris in esposizione 60 opere di 800 e 900 che fanno parte del patrimonio del Consiglio regionale. È visitabile fino a venerdì 29 aprile nella sede del Consiglio regionale del Piemonte in via Alfieri 15 a Torino la mostra la collezione di Palazzo Lascaris riedizione e arricchita dell'esposizione curata nel 2017 da Roberto Mastroianni in collaborazione con Alex Donadio e Barbara Colombotto Rosso. Sono esposte circa 60 opere tra dipinti e bronzetti realizzate da artisti italiani e stranieri tra 800 e 900 entrate a far parte del patrimonio del Consiglio regionale dal 1975 quando Palazzo Lascaris è diventato sede regionale. Abbiamo delle opere di Lorenzo delle Ani e poi abbiamo proprio alle mie spalle Il Partigiano e un'altra serie di opere che sono state acquisite a seguito di mostre d'arte sul tema della resistenza. Abbiamo la collezione di bronzi provenienti dal fonditore Sperati che ci è stata donata negli anni 80. Abbiamo molte opere che sono piemontesi dell'800 e del 900, ci sono opere nazionali e internazionali. La collezione di Palazzo Lascaris è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 esclusi i giorni festivi. L'ingresso è gratuito. In programma anche visite guidate che si svolgono il venerdì pomeriggio alle ore 14 e 30. Per prenotazioni è necessario inviare un'e-mail all'indirizzo rel.esterne-cr.piemonte.it Per questa edizione è tutto. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.